Sono duri i giudizi delle opposizioni sul discorso di Renzi. Per i 5 Stelle, il racconto che viene fatto dal Premier sull'Italia non corrisponde alla realtà. Il suo è un paese delle meraviglie, fatto di falsi segni più e numeri inventati attaccano i parlamentari. La verità, sostengono, è un'altra. Purtroppo il Premier racconta la solita favola, perché il paese è fermo, la disoccupazione non scende e le città sono attanagliate dallo smog. È il paese che viene raccontato che non esiste. Per cambiare passo definitivamente ci vuole una politica con al Governo il Movimento 5 Stelle.